Un poster per la pace, un'iniziativa del Lions Club dell'Isola Dischia. Presidente Gallitelli, allora. Grazie, sì. Allora, un poster per la pace è un service del Lions Club, Isola Dischia, ma è un service di carattere mondiale. Ci tengo a dirlo perché il Lions Club International propone questo service da quasi 30 anni. Che cosa si propone in poster per la pace? È un concorso artistico riservato agli alunni delle scuole medie qui in Italia, cioè ragazzi da 11 a 13 anni, quindi in Italia qui alle scuole medie, che devono disegnare la loro visione della pace. Lo scopo è quello di inculcare già da oggi, già da in questa fascia di età così particolare, la visione, il desiderio della pace. Perché loro sono il nostro futuro. Quindi questo concorso a livello locale ci sarà, quest'anno abbiamo coinvolto le scuole medie di Ischia e le scuole medie di Barano, per motivi anche di spazio logistici. Magari altri anni coinvolgeremo le altre scuole medie dell'isola. Ci saranno dei vincitori appunto a livello locale, uno di Ischia e uno di Barano, che concorreranno poi dopo a livello distrettuale, cioè a livello regionale, poi dopo a livello nazionale e magari, non lo so, qualcuno di qua che concorrerà a livello mondiale. A livello mondiale ci saranno 24 finalisti, di cui uno vincitore mondiale, praticamente che riceverà un premio di 5.000 dollari e un viaggio lì per la premiazione in America. Ma più che questo diciamo che non potrebbe l'optimum, ma è proprio il concetto, è il lavoro che io ho pensato anche di, come dire, inglobare a un discorso di inclusione con i ragazzi, diciamo, diversamente abili dei due istituti e la cosa è riuscita, è riuscita. È stato un vero successo, tutti si sono divertiti e adesso qui faremo la cerimonia di premiazione. È stata veramente una bellissima iniziativa. Quando il presidente dei Lions Club dell'Isola di Ischia, il signor Gallitelli, mi propose questa bellissima iniziativa, fui veramente felice, perché quale tema più bello e anche attuale della pace? Sappiamo i tempi di guerra che noi viviamo, lo vediamo che in tutte le parti del mondo quindi ci sono guerre, tuttora ci sono problemi con il terrorismo e i ragazzi quindi erano già dentro a questa problematica perché ne parlavamo in classe, avevamo anche condotto delle ricerche l'anno scorso, delle sperimentazioni, per cui veramente quando è arrivato anche questo progetto a conclusione quasi di un nostro percorso che avevamo fatto negli scorsi anni, senza altro ho dato subito l'adesione e i ragazzi hanno risposto anche in maniera positiva perché sono stati presentati quasi oltre 100 lavori.